La sezione estiva del Festival d'Otunno si conclude appunto giovedì 10 agosto qui nella magica Summer Arena di Soverato. Quale location migliore appunto per trascorrere insieme al pubblico la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle, con il personaggio forse più amato di quest'estate dal pubblico, Max Gazet. Il suo tour sta veramente in anellando un successo un soldato dopo l'altro e anche qui ha soverato grandissima l'attesa nei confronti di questo concerto nel quale appunto Gazet proporrà i suoi più importanti successi e anche alcuni brani tratti dal suo ultimo CD Max Millian. Gazet è un personaggio tutto tondo, è eccelso bassista, ha avuto collaborazioni eccellenti con i più grandi artisti diciamo italiani e poi si è anche cimentato nel cinema in Basilicata Cost to Cost e tante altre pellicole. Ma soprattutto appunto colpisce la sua musica e la ricerca dei suoi testi. Sono dei testi appunto molto ricercati e uniti appunto a un sound veramente molto ballabile e i suoi tormentoni diciamo sono poi conosciutissimi dal pubblico di tutta l'età quindi veramente sarà un concerto imperdibile. Noi vi aspettiamo anche a Soverato, ci sono ancora biglietti disponibili, si possono rintracciare sia qui nella Summer Arena che ogni sera dalle 22 in poi sarà aperta come botteghino oppure presso tutte le prevenite Ticket One sia a Soverato, a Catanzaro ma anche sul nostro sito festivaldottunno.com dove appunto troverete tutte le informazioni inerenti allo spettacolo e anche appunto potrete acquistare direttamente il biglietto. Poi vi segnalo la nostra app festivaldottunno.com Se appunto vi iscrivete potrete partecipare ai biglietti in palio per appunto per questo concerto. Sono tre biglietti appunto messi in palio, chi si iscrive alla nostra app dove appunto potrete ricevere in presa diretta appunto tutte le informazioni di renti concerti ma anche le foto, le immagini appunto dei concerti stessi, le recensioni. Quindi veramente un modo per stare continuamente in contatto con noi del festivaldottunno perché dopo il concerto del 10 agosto appunto il festival continuerà dal 15 settembre in poi di nuovo a Catanzaro, la nostra sede e ogni settimana un evento fino al 17 novembre in cui chiuderemo i battenti con l'unica data regionale del nuovo concerto di Vinicio Capostella.